Il centro avanti della Taranto fa partire un traversone per Ancora che stoppa il pallone, poi va sul fondo, effetto un tiro e poi GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sì, Clari, 4! Gli ha fatti 4! Erano 22 anni che un calciatore del Taranto non riusciva a segnare 4 gol tutti insieme in una partita. Dal 10 dicembre del 1994 Sossio Aruta in Taranto e Altamura finita 5-0 allo Iacovone. 22 anni dopo il record viene eguagliato da Giuseppe Sicleri che da quando è arrivato a Taranto aveva segnato in tutto 3 gol in una partita, anzi in meno perché poi è stato sostituito a metà del secondo tempo, ha segnato 4 gol firmando di fatto una rimonta pazzesca del Taranto contro un buon potenza. Il Taranto vince ancora allo Iacovone, è il suo dodicesimo successo, 5-2 il Roboante, risultato finale. Andiamo alla cronaca, ci sono sugli spalti circa 5.000 spettatori, per la precisione sono 4.700 i paganti intervenuti per questa giornata pro Taranto. c'è anche una rappresentanza di sostenitori della potenza. Mister Cazzarò deve rinunciare in partenza a Marsili squalificato, ovviamente anche a De Giorgi infortunato. Il 3-4-3 si compone con Chiavazzo schierato dal primo minuto accanto a Ciarcià, difesa con Bida centrale, Ibojo e Pambianchi sugli esterni. Poi a centrocampo a destra Nosa, a sinistra Marseglia, mentre lì davanti il solito tridente con Genchi, Gaetano e Siglari. 3-5-2 la formazione lucana che gioca in maglia bianca. Il primo brimido corre proprio al diciottesimo minuto quando il Potenza passa in vantaggio. C'è un fallo di De Lucia, il portiere del Taranto su De Stefano. Il direttore di gara, il signor Ceccon, indica il dischetto. Dagli undici metri si porta l'ex Vaccaro che porta il Potenza in vantaggio. Taranto 0, Potenza 1. Neanche sei minuti, altra doccia fredda per i 5.000 dello Iacovone. Cross dalla destra di De Stefano e sotto porta zampata vincente di Marco Esposito che fissa il punteggio sul 2-0. E allora scende in campo, è proprio il caso di dirlo, Michele Cazzarò che cambia tutto. Fuori un centrocampista esce Chiavazzo. La sua partita dura soltanto 25 minuti. Dentro Cristiano Ancora, quindi un attaccante. Il Taranto è 2-4-4 in fase di non possesso oppure 4-2-3-1 se vogliamo leggerlo. L'impianto tattico sotto un profilo più equilibrato. Il Taranto però cambia decisamente volto, diventa più incisivo. Al ventiseiesimo c'è un gran tiro di Ciarcià con il pallone che termina di pochissimo al lato, alla destra del portiere Napoli. Al trentottesimo Marseglia da buonissima posizione, svirgola la conclusione e manda il pallone sul fondo. Il Taranto però riapre la partita all'ultimo minuto del primo tempo. Al quarantacinquesimo Ciarcià prova la botta dal limite, pallone deviato, si impenna. Termina sul destro di Sicari che in spaccata in diagonale realizza il gol del 2-1 riaprendo la partita. Nella ripresa, neanche un minuto di gioco, il Taranto trova il pari. Lungo cross di Marseglia dalla sinistra, testata chirurgica del numero 11 del Taranto ed è 2-2. Al dodicesimo il Taranto passa addirittura in vantaggio. C'è un'azione personale del solito, indomabile, Genchi che lascia partire un gran tiro. Il pallone si stampa sul palo, sulla ribattuta, il più lesto è Sicari che di testa firma il sorpasso. Taranto 3, potenza 2. Al quindicesimo c'è il secondo cambio in casa, Taranto esce Gaetano, entra Guardiglio ed è ovviamente un altro juniores. Il Taranto passa al 4-3-3 con Marseglia che va a fare il centrocampista, mentre Guardiglio si abbassa sulla linea della difesa insieme con Nosa dall'altra parte. Il Taranto addirittura segna gol del 4-2 al diciassettesimo. C'è un'azione lavorata d'attacco, Genchi apre per Ancora, il quale va alla conclusione forte e ravvicinata. Il portiere del Potenza Napoli le spinge corto, la zampata vincente è ancora la sua, quella di Giuseppe Sicari che così firma la sua quarta rete nella stessa partita. Poker di reti per il numero 11, Rosso Blu, che segna così 7 gol nella speciale classifica dei marcatori. Alla mezz'ora c'è un contropiede del Taranto, Genchi, Ancora, conclusione di quest'ultimo, pallone alto. La formazione rosso-blu dilaga Sicari, al 31esimo potrebbe fare addirittura pokerissimo, ma Napoli gli dice no alla sua conclusione ravvicinata. Al 34esimo esce Sicari, per lui standing ovation dei circa 5.000 dello Iacovone entra in campo Francesco Alvino. Al 40esimo si rivede il Potenza con un colpo di testa di Mautone, pallone angolatissimo, ma è prodigioso l'intervento di De Lucia che riesce a deviare in calcio d'angolo. Tre minuti più tardi ancora Potenza pericoloso con Passon che si avvicina alla porta rosso-blu, la conclusione da distanza ravvicinata e neutralizzata dall'estremo difensore del Taranto. Quando tutto sembra concluso il Taranto trova anche il tempo e il modo per segnare il quinto gol, lo firma il solito Genchi, ventunesimo sigillo stagionale, ruba palla l'avversario, si invola verso Napoli e lo batte con un sinistro violento. Per Genchi una rete meritatissima che lo porta dunque a quota 21, come dicevamo nella speciale classifica dei marcatori. Al termine della gara la squadra guadagna di spogliatoi, la curva richiama la squadra, venite sotto la curva e l'abbraccio simbolico per un Taranto che davvero non finisce mai. Brimido corre proprio al diciottesimo minuto quando il Potenza passa in vantaggio, c'è un fallo di De Lucia, il portiere del Taranto su De Stefano, il direttore di gara, il signor Ceccon, indica il dischetto. Dagli undici metri si porta l'ex Vaccaro che porta il Potenza in vantaggio, Taranto 0, Potenza 1. Neanche sei minuti, altra doccia fredda per i 5.000 dello Iacovone, cross dalla destra di De Stefano e sotto porta zampata vincente di Marco Esposito che fissa il punteggio sul 2-0 e allora scende in campo, è proprio il caso di dirlo, Michele Cazzarò che cambia tutto. Fuori un centrocampista, esce Chiavazzo, la sua partita dura soltanto 25 minuti, dentro Cristiano Ancora, quindi un attaccante, il Taranto è 2-4-4 in fase di non possesso, oppure 4-2-3-1 se vogliamo leggerlo, l'impianto tattico sotto un profilo più equilibrato. Il Taranto però cambia decisamente volto, diventa più incisivo. Al 26esimo c'è un gran tiro di Ciarcià con il pallone che termina di pochissimo al lato, alla destra del portiere Napoli. Al 38esimo Marseglia da buonissima posizione, svirgola la conclusione e manda il pallone sul fondo. Il Taranto però riapre la partita all'ultimo minuto del primo tempo, al 45esimo Ciarcià prova la botta dal limite, pallone deviato, si impenna, termina sul destro di Sicari che in spaccata in diagonale realizza il gol del 2-1 riaprendo la partita. Nella ripresa, neanche un minuto di gioco, il Taranto trova il pari. Lungo cross di Marseglia dalla sinistra, testata chirurgica del numero 11 del Taranto ed è 2-2. Al dodicesimo il Taranto passa addirittura in vantaggio, c'è un'azione personale del solito, indomabile, Genchi che lascia partire un gran tiro, il pallone si stampa sul palo, sulla ribattuta, il più lesto è Sicari che di testa firma il sorpasso. Taranto 3, potenza 2. Al quindicesimo c'è il secondo cambio in casa, Taranto esce Gaetano, entra Guardiglio ed è ovviamente un altro Juniores. Il Taranto passa al 4-3-3 con Marseglia che va a fare il centrocampista, mentre Guardiglio si abbassa sulla linea della difesa, insieme con Nosa dall'altra parte. Il Taranto addirittura segna gol del 4-2 al diciassettesimo, c'è un'azione lavorata d'attacco, Genchi apre per Ancora, il quale va alla conclusione forte e ravvicinata. Il portiere del Potenza Napoli le spinge corto, la zampata vincente è ancora la sua, quella di Giuseppe Sino. Taranto vince ancora allo Iacovone, è il suo dodicesimo successo, 5-2 il Roboante, risultato finale. Andiamo alla cronaca, ci sono sugli spalti circa 5.000 spettatori, per la precisione sono 4.700 i paganti intervenuti per questa giornata pro Taranto, c'è anche una rappresentanza di sostenitori del Potenza. Mister Cazzarò deve rinunciare in partenza a Marsili squalificato, ovviamente anche a De Giorgi infortunato. Il 3-4-3 si compone con Chiavazzo, schierato dal primo minuto accanto a Ciarcià, difesa con Mbida centrale, Ibozo e Pambianchi sugli esterni, poi a centrocampo a destra Nosa, a sinistra Marseglia, mentre lì davanti il solito tridente con Genchi, Gaetano e Sigliari. 3-5-2 la formazione lucana che gioca in maglia bianca. Il primo... ...centravanti della Taranto, fa partire un traversone per Ancora, che stoppa il pallone, poi va sul fondo, effetto un tiro, e poi... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sigliari! 4! Gli ha fatti 4! Erano 22 anni che un calciatore del Taranto non riusciva a segnare 4 gol, tutti insieme in una partita. dal 10 dicembre del 1994, Sossio Aruta in Taranto e Altamura, finita 5-0 allo Iacovone. 22 anni dopo, il record viene eguagliato da Giuseppe Sicleri, che da quando è arrivato a Taranto aveva segnato in tutto 3 gol, in una partita, anzi in meno, perché poi è stato sostituito a metà del secondo tempo, ha segnato 4 gol, firmando di fatto una rimonta pazzesca del Taranto contro un buon potenza. e poi è stato un buon potenza,